Grande fratello. Scatta la passione intensa tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ciao a tutti e grazie per essere tornati nel canale. Scriviti al canale per restare sempre aggiornato. Abbiamo dormito insieme, non ce l'abbiamo fatta più e. Ha raccontato Shaila. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si trovano attualmente ospiti nella casa del Gran Hermano, a Madrid. I due geffini, resi dal pubblico i preferiti della nomination, stanno vivendo un'esperienza tutta nuova e torneranno a prendere regolarmente parte al grande fratello italiano, probabilmente a partire dalla prossima puntata. Nonostante l'evidente vicinanza a Javier Martinez, nel corso dell'ultima diretta del programma, Shaila ha confessato che non lo avrebbe atteso fuori, in caso di eliminazione dal gioco. A Viera ha così consumato la propria piccola vendetta, confidando ai propri compagni d'avventura le loro ripetute effusioni sotto le coperte. Nel frattempo, però, Shaila e Lorenzo in studio, al cospetto di Alfonso Signorini, si stavano dichiarando reciprocamente, promettendosi di seguire il cuore. Le telecamere spagnole, infatti, li hanno ritratti sempre molto affiatati, complici e in evidente confidenza. Shaila ha anche dichiarato pubblicamente di essersene innamorata. Nel corso del daytime di oggi, le immagini hanno ritratto i due ragazzi in tutta la loro affinità. Lorenzo, un'attrazione, un'energia che ci collega, che veramente è inspiegabile. Shaila, gli occhi di Lorenzo sono forti, io li sento, parlano, sono comunicativi. C'è anche la paura di innamorarsi, però con lui a quella paura non ci penso più. Non ho mai vissuto un'emozione così nella mia vita, mi sento una bambina di 12 anni. Sono felice, io lo desidero proprio. Shaila ha anche aggiunto dettagli rispetto alla notte di passione che i due avrebbero trascorso insieme. Abbiamo dormito insieme, abbiamo iniziamo ad accarezzarci, a sentire cose. Ad un certo punto non ce l'abbiamo fatta più ed è partita questa passione. Tuttavia, stando a quanto raccontato dal bel modello milanese, i due neo-innamorati avevano già consumato la propria passione durante la prima notte trascorsa insieme. Come reagiranno i colleghi del reality italiano quando saranno mostrate queste immagini? E tu, cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. Scriviti al canale per restare sempre aggiornato.